ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare la sfida che richiede di distruggere delle ragnatele all'autorità all'autorità oramai non c'è più nessuno per quanto riguarda i nemici perché è diventato un luogo abbandonato e di conseguenza ci sono le ragnatele vedete dovete distruggerne tre la prima la trovate praticamente all'ingresso la seconda la trovate in questa stanza e poi la terza la trovate qua cioè quindi sono molto semplici e facili da trovare e distruggere